Inizia con un gocciolare di pioggia, di gocce di pioggia, che piano piano si sommano fino a quando incominciano i tuoni e poi c'è una tempesta che porta via diversi ritmi, invece che portare via delle foglie o chissà che, porta via diversi ritmi di musica con la stessa melodia. Ecco voi, tormenta di maggio con l'inevogliabile partecipazione di me adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.